D'inizio di giugno, come andrebbe se si votasse oggi? Fratelli d'Italia riguadagna 1,03% al 28,5%, Partito Democratico meno 0,2% al 19,4%, Movimento 5 Stelle 16,8% più 0,4%, Lega 9,1% meno 0,3%, Forza Italia stabile al 7,2%, Azione 3,7% più 0,1%, più 0,1% anche al 3,4% per Verdi e Sinistra Che però vengono raggiunte, come stiamo per vedere, Da Italia viva più 0,2% appunto 3,4%, Stabile più Europa al 2,6%, Per Italia con paragone 1,7% meno 0,2% meno 0,2% anche per Unione Popolare all'1,4%, Noi moderati più 0,1% 1,3%, Altre liste complessivamente 1,5%.